Con l'aiuto della lettura dei giorni con Tarecci, i famosissimi ortaggi hanno pronunciato il loro risponso. L'inverno sarà perturbato con temperature rigide, gelo nevischio e neve anche tardiva. La primavera giungerà con un po' di ritardo, ma per il resto si svolgerà con temperature miti e precipitazioni inferiori alle medie stagionali. L'estate sarà lunga, le cipole dicono che i giorni estivi del 2019 saranno belli e senza canicola. L'estate si protrarrà oltre il solito termine con giornate soleggiate e brillanti. L'autunno sarà decisamente diviso in due parti, la prima con il carattere ancora dell'estate, la seconda con manifestazioni tipiche dell'inverno, temperature rigide e neve a cavallo tra novembre e dicembre. Nel dettaglio gennaio mese variabile con accentuati picchi di freddo. Febbraio gelo e nevischio, specie nella seconda parte del mese. Marzo continua il freddo, le precipitazioni saranno maggiori rispetto a febbraio, con probabili nevicate tardive. Aprile mese abbastanza piovoso. Maggio primaverile ma variabile nella prima parte del mese. Giugno il primo mese dell'estate si presenta con bel tempo per la maggior parte dei giorni. Luglio bel tempo, caldo con temperature nelle medie stagionali. Agosto tendente al bello con qualche sporadico temporale. Settembre sarà prevalentemente caratterizzato dal bel tempo. Ottobre bel tempo ma saranno scarse le piogge tipiche dell'autunno. Novembre in questo mese l'inverno conosce un deciso anticipo con freddo e precipitazioni a carattere nevoso. Dicembre infine freddo e neve.